Cosa diavolo ci fa a quello lì qua dentro? Questo sì che è sorpassato, signor Bray. Ma che cosa fa? Questa è proprietà privata, signorina. Signor Bray, signor Bray. È ora di andare a vedere per quel cavallo. Quale cavallo? Quello con cui farà il giro per visitare i suoi pazienti. Un cavallo, certo. Buongiorno, signori. Fare il dottore è una cosa. Essere una donna, un'altra. Ed essere una donna nubile, un'altra ancora. Lei ha abbastanza punti a sfavore per il momento. Inoltre non vuole capire che da queste parti c'è gente che tratta gli indiani come se non fossero esseri umani. Ma non abbiamo appena combattuto una guerra in nome dell'eguaglianza. Mi spiace doverglielo dire, ma qui nessuno si è curato di quella guerra. Erano troppo occupati ad ammazzare indiani. Buongiorno, Robert. Allora, qualcuno di questi bellissimi cavalli per caso è in vendita? Chi lo compra? Ti ho fatto semplicemente una domanda. Il pezzato è il sauro. Ah, il pezzato è il sauro. Buongarrese. Molto buono, sì. Ha anche una schiena bella forte. Eccellente schiena. Splendidi denti. Sono marci. Forse un pochino. A me piace questo. Troppo vecchio. Può darsi però all'aria di avere... un cuore. È capace di cavalcare. Se sono capace di cavalcare. Allora, è capace o no? Stia a vedere. Fermo. Metta più forza in quella staffa. Saffi, coraggio. Forza. Così. Oh! Me lo ha tolto? No. Ho qualcosa da offrire. Eccoci qui. Fermo. Fermo. Se sopravvive, farà bene a imparare a cavarsela. Infatti. Fermo, fermo! Vieni, bello. Qui, avanti. Qui, da breve. Su, vieni. Quanto vuole? Un dollaro al mese? Agne. Quanto vuole? Quanto vuole?